Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Grana Sky 2 Allora, ho rischiato un macello, sono andato ad FK per cercare di capire quel macchinario là che mi serviva qual'era non l'ho trovato, non sono riuscito a trovarlo ma intanto la roba qua è uscita tutta perchè è pieno, forse ho perso anche qualche materiale non so se è despaunato, non credo perchè li vedo tutti qua quindi, 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 cosa facciamo? eh, nulla, per il momento facciamo quello base, anzi se non li prendo qua rischiamo che mi salta tutto quindi prendiamo i eh, porca miseria eh, allora, facciamo così mettiamo tutto qua per ora allora, dicevo facciamo per il momento quella base, quindi ehm allora, innanzitutto ho scoperto a cosa serve quel macchinario vediamo se l'ho, dove l'ho messo ehm dov'è, 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 dov'è porca miseria qual'è che era questa qua, il builder allora vi faccio vedere come funziona praticamente ci fa costruire delle chest ehm allora, se mettiamo dentro una chest tre di ferro tre di iron possiamo vedere possiamo scegliere quante colonne e lui aumenta i materiali che ti servono quindi se noi lo facciamo per dirti al massimo ci servono nove chest trentadue di ferro trentadue di iron e nove di clay troppo ovviamente quindi facciamo che ne so così una chest quattro di ferro quattro di iron aumentiamo ok andiamo quattordici colonne otto sì, dai, va bene per il momento va bene allora facciamo tre chest legno l'ho messo da qualche parte adesso ho buttato tutto qua dentro allora legno iron ne ho ancora da qualche parte sì però mi serve anche l'iron per fare allora facciamo così prendiamo questo di più me ne serve ok lo buttiamo qua dentro e lui si produce nel mentre ben detto che mi serve la clay che ce l'ho perché ce l'ho allora no una sola no ne avevo molto di più di clay vabbè niente ho la dust la facciamo dove cavolo l'ho messa ok allora mettiamo giù quanta? tre di clay perfetto uno due tre quattro cinque vabbè me ne servono tre e ne metto cinque sei scemo poi mi servono dodici di questi le chest uno due tre ok poi mi serve il ferro quindi facciamo così prendiamo sedici e poi andiamo qua e facciamo uno due tre quattro cinque set set otto nove dieci undici dodici e dodici vabbè tredici fa niente facciamola facciamo blu e facciamo chest e non è partita non è andata ah ok posso fare anche il back ok devo fare build chest e lui mi ha fatto la chest me l'ha fatta bianca chi se ne frega allora a cosa ci serve questo ci serve a mettere dentro no no dove è la branch porca miseria ok stigiamolo così guardate che roba 14 per 8 e noi possiamo prendere e buttarci dentro tutto ora se io dimmi pensare un attimo io potrei fare un sistema non riesco a farlo automatico però vabbè niente facciamo così allora iniziamo come prendere i cavi e a portare tutto dentro lì in modo che si svuota poi farò per il momento tutto a mano il servo il servo si è già pieno porca miseria ova che roba allora uno due e tre spacchiamo spacchiamo e spacchiamo poi spacchiamo anche qua dopo vi spiego perché qua perché ho chiuso dovevo chiudere devo arrivare alla chest quella dov'è che è qua però vedendo si potrei fare che tolgo quella ok tolgo anche questa oddio che palle ok la mettiamo la mettiamo la mettiamo qua quindi prendiamo questa la mettiamo qua e così funziona se io la metto dentro sta roba in teoria non dovrebbe no questo non mi interessa se io li butto dentro sta roba dovrebbe restare lì dovrebbe prendere soltanto le cose esatto che c'ha nel perfetto così direi che siamo a cavallo non è automatico però è un inizio qua prendiamo tutto vedete l'intercapedine che ho fatto qua e per poi far passare tutti i cavi cavettini cavettoni allora direi di spaccare sotto osti gli passa il cavo lì vabbè vediamo andiamo giù e vediamo un po' come siamo messi con i cavi allora riusciamo andiamo a farlo passare rimane il buco ma non ce ne frega niente no non va bene devo allora facciamo così no vabbè sì no devo prenderli devo andare su e prendere i cavi della corrente che sono qua minchia quasi finiti li ho quasi finiti pa 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 ok niente stacchiamo questo magari se usiamo la range facciamo anche prima eeeh facciamo così così no così così e così e così e qua scendiamo con questo non così magari più vicino tipo così veniva anche un po' più figo questa lo facciamo così e andiamo 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 dove andiamo qua scendiamo qua di uno ok questo lo colleghiamo insieme andiamo avanti così e ci colleghiamo ah sti qua un altro arca miseria che palle lì perché odio i cavi della terma c'è nel senso una volta li adoravo ma adesso da quando ho scoperto quelli dell'ender.io che qua non c'è purtroppo che li puoi mettere insieme quelli dell'elettricità quelli del fluid quelli della le cose è molto meglio si evitano tutte queste cagate qua ok se adesso gli mettiamo il servo e facciamo così parti e parte ok perfetto 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 poi servo senza segnale di redstone servo senza segnale di redstone e qua parte tutto parte? si sta partendo ecco io magari farei una cosa un po' più veloce nel senso gli libero un po' il tutto poi e qua e qua e qua gli arriva la roba un po' lenta ma gli arriva dovrebbe arrivare allora buttiamogli dentro tutto quanto così parte e non mi rompe le scatole guardate qua quanta roba abbiamo prodotto che va benissimo però finché non ho quel macchinario lì porca miseria non riesco a oh qui sta già svuotando più velocemente di quanto riempie perfetto io però farei così allora gli diamo una mano anche qua la flinta non gliel'ho fatta mettere in nessuna parte vero? e gliela mettiamo così ci arriviamo dalle balle e sti cosi qua anche gli exotic così bisognerebbe metterli da qualche parte ok direi che siamo abbastanza a cavallo per il momento si riproduce qua svuota in teoria dovrebbe andare tutto alla perfezione dovrebbe svuotare in automatico si ci metterà un po' a svuotare tutto perché è più è poco più veloce però funziona è qua che bisogna dargli una mano un po' di più secondo me ok invece di fare il giro lungo facciamo così sì così questo 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 allora gli devo mettere il bonmil il charged no dove cacchio è qua questa e il charged che è da qualche altra parte devo mettere dentro le bar per il momento non queste cazzo sto facendo allora bomb mill qui sto tirando la flint i diamanti perfetto bomb mill poi gli devo mettere questo e andare a recuperare i charged certus quarts che sono intanto bomb mill via questo via qua charge certus quarts guarda qua quanta roba da buttare dentro ok allora niente butto dentro tutto così i charged li devo mettere li devo fare una barrel sua ok e e e invece aspetta scusami questo è certo squarts e questo ah l'avevo già fatto il charged non mi ricordavo vabbè allora butto dentro tutto buttiamo dentro questi buttiamo dentro il charged questo questo libero qua lo richiudiamo un'altra volta la battite e tutto vediamo se qua ha sbattato tutto perfetto perfetto e quasi finiamo noi e qua lo tiriamo da solo perfetto ok 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 adesso che cosa fare e��은 ee pat 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 m well dai off camera faccio euh sistemo tiro via tutte le polvere che ci sono le compatto a mano e e Dopodiché le butto dentro qua e farò il coso Comunque, visto che abbiamo capito come funziona questo Figata, vero? Possiamo fare, appunto, come ho detto, anche il backpack A seconda di come lo vogliamo Possiamo fare un backpack enorme, ragazzi Ok, sette di lana, vedete? Anche questo qua mi aumenta il coso E lo possiamo fare del colore che vogliamo Questo coso qua è una figata Non sapevo esistesse L'altra volta, quando avevo fatto questo pacchetto qua Non l'avevo usato E' veramente, veramente figo Vediamo un po' se Cosa possiamo fare Allora Allora, la prossima puntata andiamo avanti Con queste quest qua Sì E poi, boh, poi vediamo Per oggi direi che è tutto Grazie a tutti Ciao 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 Ciao